Maschera antigas polacca, anni 80, nuova. Tracolla in tessuto con fibbia metallica per regolarla. Apertura rapida con pettuccia e fibbia metallica. Filtro e maschera. Semplice da montare, si toglie la sicura plastica, si avvita e la maschera è montata. Questa è un'altra sicura che viene tolta. Questa polvere che trovate all'interno è una polvere di mantenimento della gomma. Maschera semplice. Una costruzione molto spartana, tipica dei paesi all'est. Lo stesso dicasi per la custodia. La regolazione della maschera avviene sul retro tramite queste sei cinghiette con fibbie metalliche. La sacca porta maschera in tessuto con il particolare nimetismo polacco. ha dei timbri di identificazione interni che sono divise per tagli. Questa cinghietta serve per cingerla intorno alla vita, per assicurarla. C'è una fibbia metallica. Può essere messa in questa parte. Ricordiamo a tutti che la maschera viene venduta senza certificazioni, come oggetto puramente collezionistico. Speriamo. Questa è la scena. Questa è la scena. Questa è la scena.